Pronto! Oh Lucia! Ciao eh! Sto da portare un paio di libri in biblioteca che avevo ancora a casa! Cos'è? No! La biblioteca è chiusa! Nooo! Pronto? Marielle? Hai sentito? Dopo il dpc e il mediconte hanno chiuso anche la biblioteca! E che cavolo! E ma come si fa? Giù! La biblioteca di quartiere! E poi Marielle è un genio! Sì sì sì! Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! E lì va fuori! Sì sì sì! Te lo portiamo dopo pranzo! Va bene? Sì va bene quella! Ok dai! Scriviamo! Sì è Nicky Jett e il libro cuore! Sì! Pronto! Pronto! Sì! Un attimo! Abbiamo tutta la saga di Goku! Tutta! Tutto il manga! Ehi! Qual è il numero di saga? Il 6? Sì sì! Ce l'abbiamo! Sì sì! Johnnicku! La saga di Goku! Il libro 6! Ok! Poi! Sì! Vi hanno un quattro ruote! Ehi! Abbiamo quattro ruote! al volante focus storia e poi anche focus junior qual è il focus junior? va bene dai ci vediamo dopo, ci si fa, ci si fa, ci si fa un'altra musica che voleva fare la biglia, ce l'abbiamo la biglia? si ce l'abbiamo non è ah ok abbiamo quella dei piccoli, quella dei grandi, quella dei neri, va bene, va bene tutto, ok dopo portiamo i libri tutti eh il libro è che voleva Marietta, la Lucia, chi è che non voleva eh non me la ricordo, non me la ricordo, aspetta allora lei è caricata la motoretta? ah si l'ho caricata e poi andiamo a portare i libri tutti quanti nel quartiere, ci vuole la motoretta poi l'altro giorno ho pronunciato la carriola, ma non era sfuggente, ci vuole la motoretta tanto l'ho fatta Giustano ma lei non chiamava Marietta che dice l'ho fatta Giustano la motoretta, l'ho portata da zio Fabio e Giovaleno me l'hanno truccata, prima faceva 50, adesso faceva 150 ah 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 allora sì allora il piano di una schiappa dice che lo vuole Raffaele e invece Angela dice che vuole eh cosa che vuole? Pogliana? allora ok ok mettilo mettilo ok ok perfetto dunque aspetta che chiamo Marietta per non mi ricordo che libro è come? Marietta! che libro è che vuoi? cos'è? Harmony? No, non vuoi armi, cosa ti vuoi? 50 sfumature di grigio! Beh, non ce l'ho oggi qualsiasi modo di sfuggire! Ma chi è che scurba? Pronto? No, non te la posso portare adesso! E riporto! Lo sto leggendo io! Dopo che l'ho finito, te lo porto! Ciao eh, ciao! E adesso vai! Ma guarda, con questa... Bevo giocata di quartiere! Non si può più leggere insomma!